Davvero una querella senza fine, quella che riguarda i taxi a Firenze, ma noi continuiamo a parlare di un'altra questione ormai annosa come quella della pista di Peretola. Sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze, su alcuni aspetti come la lunghezza della nuova pista, non si torna indietro rispetto all'indirizzo di una nuova pista da 2000 metri, anziché una di 2200 metri, come vorrebbe Enac. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale sul procedimento di via per il masterplan aeroportuale di Firenze. Rossi ha ricordato anche l'iter che il procedimento dovrà seguire e che in caso di pronuncia positiva da parte del Ministero dell'Ambiente, il passo successivo sarà una conferenza dei servizi al Ministero dei Trasporti. Ampio è il dibattito in Consiglio che ha seguito la comunicazione. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, ha chiesto una moratoria sull'aeroporto. Sconcertato, si è detto Manuel Vescovi, capogruppo della Lega Nord, la valutazione di impatto ambientale doveva essere fatta prima, ha detto non possiamo andare a rivedere ciò che va contro al pit. Il capogruppo PD, Leonardo Marras, invitando a stare dentro la discussione e ognuno a riconoscere i propri limiti, ha sottolineato la portata del tema e quindi anche la strategia nazionale. Abbiamo invitato per questo in una risoluzione dedicata la Commissione a fare anche delle audizioni, ad approfondire per conto del Consiglio questa materia appena ci saranno queste informazioni e poi a ritornare in aula. D'altra parte, altrimenti ci sarebbe stato da discutere sulla richiesta di moratoria dei 5 Stelle. Sono 30 anni che c'è la moratoria sull'aeroporto. Noi sappiamo che è un'opera di interesse nazionale. Tommaso Fattori, capogruppo di Sì, Toscana Sinistra, ha parlato di situazione surreale e ha invitato il presidente Rossi ad andare avanti nel rispetto della legge. Questo riguardo Stefano Baccelli della PD, presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture, ha assicurato sul rispetto delle norme.